Comincia con il piede giusto il cammino di Daniele Garozzo nella Coppa del Mondo di Fioretto Maschile, sia individuale che di squadra. Arriva ad un passo dal podio nell'individuale il fiorettista acese nella prima tappa del circuito internazionale del Cairo. Si ferma solo ai quarti dopo l'ottima impressione data nel tabellone dei 64 in quello dei 32, dopo aver superato prima l'ungherese Mazaros e il bielorusso Launou rispettivamente per 15-2 e 15-8. Ai ottavi Garozzo ha superato Zatkowski prima di fermarsi ai quarti per un 15-14 in un incontro apertissimo contro l'altro azzurro Cassarà. Diverso il risultato per la prova squadre. Arriva il podio nella giornata di domenica, sempre nella prima tappa del Cairo. Un cammino quasi perfetto del fiorettista acese insieme a Giorgio Avola, Lorenzo Nista ed Edoardo Luperini, che dopo aver sconfitto per 45-36 la Corea del Sud ai quarti di finale, avevano perso contro la Francia in una combattutissima semifinale terminata poi 45-43. Il fiorettista acese e i compagni di nazionale poi hanno infatti conquistato la medaglia di bronzo, battendo il Giappone 45-38 nella finale per il terzo e quarto posto. Bilancio positivo dunque per l'atleta del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, arrivato a questa prova da campione del mondo in carica di specialità, con un gruppo rinnovato quasi del tutto. Abbiamo fatto un bel debutto, dice Daniele Garozzo, siamo una squadra giovane e siamo contenti di come abbiamo iniziato. Il cammino è ancora molto lungo, ma sono convinto che sia stata intrapresa la strada giusta da parte di tutti.